Voi così, così accogliate gli amici, vi fate accomodare per farli andare via. No, no, zio che c'entra quella è una donna che è strutturata in quel modo, non vedi, non capisce tutto, beh, ne capisce nulla, non ce la faccio più, ma qui, e poi si fa invitare per farsi toglie. E' effettivamente, queste secondenze, la domanda è esattamente la domanda, lo finissero, come dice, stupasti, ma non ce la faccio più. La domanda è che ci siete voi, non saresti certamente tu a ricordarmi che sono le 22 e 26. Erano 28, ora 22 e 23. Ora io vado e prendo il tassi, così quando tu finisci, signor, ti prendo il tassi e ti accoglio. E' una cosa, non c'è proprio perché sono ora e 31, avete detto, 32 e 32. Ma questo non è un po', vuoi un cronometro. Troppo buono, troppo buono, grazie. Andiamo. Fai strada, fai strada. Ciao. Grazie.